C'era una volta in un castello fatato, un principe, un topo, che era un principe che era stato trasformato in un topo, da una strega topata. Le tre fatine, uscendo dal bosco fatato... Senti, ci vuole un ritmo più... Ah, perché è uscito dal bosco fatato, chiaro. E le tre fatine si scontrarono... ...con l'orca. E cominciarono a fare un piazzo tremendo. Nel bosco tutti gli animali si svegliarono e il nord si mangia le fatine. E vissero tutti nello stomaco dell'orco. E poi il nord si mangia anche un annatore. Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah!